Senatrice Erika Stefani, in materia di giustizia quale importante vittoria ha ottenuto la Lega Nord in Senato? Oggi è stata una giornata importante perché finalmente governo e maggioranza hanno capito due temi fondamentali che noi da tempo stiamo sollevando. Uno dei temi è innanzitutto, visto che si parla del problema del sovraffollamento delle carceri, un problema è proprio quello di costruire nuove carceri e di utilizzare magari anche quelle strutture che attualmente magari abbandonate come carceri magari di minore sicurezza. E non solo. Un altro tema che per noi è sempre stato assolutamente importante era quello di far scontare la pena agli stranieri presso il loro paese di origine. Questo è un altro dato importante. I nostri carceri hanno quasi il 40% di popolazione straniera. È giusto che queste persone non vengano a uberare il peso anche sul bilancio del nostro Stato e sul numero all'interno di popolazione carceraria ma che lo facciano presso il loro paese d'origine. Oggi finalmente siamo riusciti a ottenere questo risultato. E' stato votato questa parte della nostra risoluzione, oltre ad altre due tematiche che però voglio dire riguardanti il processo civile telematico e responsabilità civile dei magistrati. Ma queste grandi due parti nostre, tipiche delle nostre battaglie, sono un risultato fondamentale.